Oltre 60 studenti provenienti da tutta Italia hanno partecipato al campus Luigi in Audi al progetto Eumodel Torino sui temi dell'Europa, dell'immigrazione e della gestione dei confini esterni dell'Unione Europea. Promosso in collaborazione con la Consulta Europea, il ciclo in 5 giornate si svolge con simulazione delle attività di Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione per avvicinare i giovani agli organismi comunitari. Importante l'iniziativa di oggi legata alla Consulta Europea che coinvolge ancora una volta i giovani, i ragazzi, gli studenti e effettivamente questo campus bensì presta per immaginare una sezione staccata del Parlamento Europeo. Ritengo che Torino sia la piazza ideale per portare avanti iniziative di questo genere, ancora di più arricchenti per il futuro. L'attenzione della Consulta Europea sarà rivolta all'Expo e ovviamente sempre ai ragazzi che sono i nostri testimoni.